Mursi Boldini, vice direttrice di Rai Ragazzi, ha deciso di collaborare e patrocinare tutte le attività che si svolgeranno sul comune di Omenia in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari. Per i ragazzi Gianni Rodari è un autore importante perché Gianni innanzitutto ha collaborato per alcuni anni in alcune trasmissioni televisive per ragazzi intorno agli anni 70, ma continua a essere di grande attualità. Il racconto, la modalità di raccontare storie di Gianni ai bambini è fondamentale per creare, per stimolare sempre di più la fantasia e la creatività nei bambini di oggi. La televisione viene spesso denigrata come strumento da censurare, ma la televisione può raccontare ancora belle storie. Con i programmi di Rai Ragazzi lo dimostriamo quotidianamente con i titoli che appunto quotidianamente mandiamo in onda, non solo con i programmi ma anche con i cartoni animati e le fiction. E quello a cui stiamo attenti nel proporre nuovi progetti è proprio quello di cercare di raccontare anche in un modo innovativo delle storie nuove, diverse, con i bambini sempre più protagonisti delle loro storie. Diciamo che Omenia è stato un comune che ha accolto questo nostro desiderio di collaborare insieme a diverse iniziative con grande entusiasmo. Noi siamo entusiasti anche noi. Noi siamo entusiasti anche noi.